Si inizia a vedere l'orizzonte di un'opera attesa da 30 anni che caratterizzerà la città di Pescara e che sostituirà con un parcheggio multipiano e un parco verde un pianoro di cemento posto nel cuore del capoluogo adriatico. Di certo non bellissimo ma molto utile considerando che fino a qualche mese fa ospitava mille posti auto. Sono stati appaltati i lavori per la riqualificazione della cosiddetta area di risulta, la grossa zona con soste blu posta tra il centro e la stazione ferroviaria di Pescara. A primeggiare un consorzio stabile di Catania che il 28 dicembre prossimo fermerà il contratto col comune e che si occuperà entro quattro mesi di redigere il progetto esecutivo, secondo le linee dettate proprio dall'amministrazione. Successivamente partiranno i lavori del parcheggio multipiano lato sud. A occuparsene sarà un'impresa della provincia di Messina indicata come prescrive la legge dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto. Noi abbiamo 13 ettari al centro della città che da troppi anni sono soltanto uno spazio asfaltato dove parcheggiano le macchine ma non c'è una pianta, non c'è un albero, non c'è una zona di miglioramento della qualità della vita dei pescaresi. Così avviamo un processo che finalmente si concretizzerà. Prevedere realizzato il parcheggio multipiano ci vorranno 450 giorni, dopodiché la fondazione Pescara Abruzzo che ha messo a disposizione 4 milioni di euro presieduta dal docente universitario Nicola Mattoscio si occuperà dell'area verde. Il sindaco Carlo Masci ha lodato il lavoro della struttura del dirigente Giuliano Rossi e ricordato come il restyling dell'area di risulta preveda la successiva realizzazione di un altro parcheggio. Cogliamo un obiettivo storico che per troppo tempo è rimasto solo una chimera e che invece oggi vede la sua attuazione.